È stata una grande emozione all'esordio fare subito il gol, poi è stato importante anche perché ha portato il pareggio nella nostra squadra e niente dai, ho provato a tirare, ho visto che c'era spazio e è andata bene. Hai ricevuto i complimenti anche del mister che ha detto che sei molto giovane ma hai giocato come il veterano? Le ringrazio il mister ma appunto sono ancora molto giovane, devo migliorare e speriamo di fare sempre le prestazioni migliori ogni volta. Quali sono state le difficoltà maggiori che avete incontrato in questa squadra? Le difficoltà maggiori nel primo tempo ci prendevano sempre tra le linee ma poi nel secondo tempo anche con le spiegazioni del mister siamo riusciti a contenerli meglio. Invece l'aspetto che ti è piaciuto di più sia personalmente sia come squadra? Abbiamo dato il massimo, abbiamo lottato su ogni pallone e credo che questa sia una cosa molto importante perché lottando si ottengono i risultati. Sì, infatti anche nel primo tempo ci hanno messo un po' di mezzo, poi nel secondo tempo abbiamo migliorato. Nel secondo tempo siete partiti abbastanza bene, poi siete un po' all'altro, hanno preso le misure, più o meno l'esterno, l'esterno è avuto io, avete partiti abbastanza bene. Sì, subito all'inizio, sì, 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 poi siamo andati e poi mi hanno recuperato. Sì, sì. Posto? Grazie. Grazie.